hanno proclamato lo stato di agitazione gli operatori ecologici della tecra aderenti al sindacato flaica la procedura è stata attivata dalla sindacato con una comunicazione tra gli altri alla prefettura di siracusa da mesi lamenta il segretario nazionale del sindacato marcello amendola i lavoratori appartenenti alla nostra sigla sindacale vengono messi in condizioni di non poter operare al meglio i motivi che li hanno costretti a dichiarare lo stato di agitazione sono sintetizzati in pochi punti mancata applicazione della normativa della sicurezza e ancora mancata applicazione dei dispositivi di sicurezza personali che sono imposti dalla normativa anti covid la mancata dotazione dei dpi quindi dei dispositivi di protezione individuale impermeabili non idonei mancata consegna dei guanti monouso e poi la mancata applicazione di turnazione uguale per tutti i dipendenti quelli della nostra sigla sindacale dice amendola vengono penalizzati da favoritismi non previsti dal rispetto della normativa vigente il mancato rispetto del contratto di lavoro per gli autisti per i quali non viene riconosciuta l'indennità di lavoro ma c'è anche il mancato riconoscimento del livello j per tutti quelli che fanno le mansioni superiori poi accusa il sindacato il rifiuto di concessione di giornate di ferie personali per il semplice fatto di appartenere alla sigla sindacale che è di fatto da poco entrata nel novero delle attività sindacali siracusane grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti